Sì, ci siamo giocati alla pari contro l'Avezzano che secondo me insieme alla Roma City è l'organico più importante di questo campionato. Noi abbiamo giocato, non abbiamo sfigurato azioni dall'una e dall'altra parte. Noi dovevamo fare questa partita, l'abbiamo fatta, poi dopo è ovvio la qualità dell'Avezzano è venuta fuori. Però oggi veramente devo fare un applauso ai ragazzi perché sono vivi, la squadra è viva e questa è la cosa più importante. Mancano ancora sette partite, finché la matematica non ci condanna noi dobbiamo lottare, abbiamo il dovere morale di lottare fino alla fine. Prima di questa quattro punti nelle ultime due, quanto crede nella salvezza o almeno nel play-out? No, il play-out noi ci crediamo, ci crediamo perché oggi la squadra non l'ha dimostrato, oggi la squadra è viva e mancano ancora, ripeto, ancora sette partite e ce la giochiamo fino alla fine. Perché veramente oggi ci siamo giocati alla pari con l'Avezzano, perciò poi l'episodio è ovvio che la differenza, la qualità fa la differenza.